La pizza te la servo io e la campagna che in queste settimane stanno portando avanti i parlamentari del Movimento 5 Stelle in vista della festa nazionale del 17 e 18 ottobre ad Imola. L'idea è quella di servire ai tavoli per raccogliere fondi e far fronte così al finanziamento del Movimento. Nelle immagini che vediamo relative ad un locale di Brescia sono al lavoro Sorial Toninelli Di Maio. Ma sentiamo cosa dice proprio il Vice Presidente della Camera Luigi Di Maio a proposito della festa pentastellata. Noi finanzieremo il Movimento sempre con il contributo di chi ci crede e vale anche per Italia 5 Stelle che è un grandissimo evento che terremo a Imola il 17 e 18 ottobre. Sarà un evento importantissimo perché lì metteremo in discussione i temi del nostro programma e tutti i cittadini, soprattutto chi non ci vota, chi ha tante perplessità, può venire lì e può commentare in una gorà pubblica i temi che noi portiamo avanti, potrà dare un suo contributo al programma, potrà partecipare. È una cosa che si è persa troppo in questo paese.